Mantenere un peso forma può essere già difficile di per sé, per questo noi siamo sempre alla ricerca di modi per renderlo più semplice. Che ne diresti se il tuo tapirulam potesse parlare e comunicare al tuo profilo alimentare che hai appena finito l'allenamento? O far sapere ai tuoi amici che hai appena raggiunto un nuovo livello di esercizio fisico? Cosa ne diresti di non dover più immettere i dati del tuo allenamento manualmente perché la macchina lo fa per te? È questa l'idea da cui nasce ViaFit. Sincronizza la tua macchina domestica con le app e i dispositivi che già usi e comunica i tuoi successi alle community a cui appartieni già. Puoi accedere ai dati ovunque e condividerli quando vuoi. È semplice. È connesso. È ViaFit.